Cercano di farci litigare con i nostri compagni di viaggio e di governo, non ci riusciranno e io che cerco sempre di essere obiettivo devo dire che in questi mesi di prima conoscenza e di primo lavoro ho trovato nei dirigenti e nei ministri dei 5 Stelle persone oneste, coerenti e con la voglia di cambiare questo Paese. E quindi se pensano di farci litigare hanno sbagliato a capire. Certo, se i porti si chiudono o si aprono lo decide il ministro dell'interno. Funziona così. Grazie. 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 Grazie.